La FIM Cisle Lombardia e la FIM Cisle De Laghi, insieme ad ADAPT, hanno incontrato gli studenti del Centro di Formazione Professionale Padri Somaschi di Como, all'interno del progetto di alternanza scuola-lavoro, che coinvolge in tutta la regione 20 aziende, 32 classi scolastiche ed un totale di più di 700 ragazzi. I temi al centro dell'incontro sono stati l'industria 4.0, fenomeno che la FIM, avanguardia sindacale, affronta fin dal 2014, l'innovazione tecnologica e cambiamenti del mondo del lavoro e il ruolo che il sindacato può avere in questi scenari per cercare di costruire opportunità per tutti. Siamo fortemente convinti, spiega Andrea Donegà, segretario generale FIM Cisle Lombardia, che le scuole e le imprese debbano essere sempre più collegate e interconnesse per sconfiggere la disoccupazione giovanile e per poter rispondere al bisogno di competenze che le aziende richiedono.